ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio parlarvi di mine perfume lab un'azienda che ho conosciuto grazie al gruppo a giumi del quale faccio parte e anche soprattutto grazie ad adele del canale dolce a the rock se non mi sbaglio scusami nel caso perché ha parlato appunto di una delle loro fragranze ho guardato il video e da lì mi sono interessata un po al marchio e sono andata a cercare informazioni poi sul sito anche per scegliere delle fragranze da testare alla fine ne ho scelte quattro ma oggi vi parlerò soltanto di olap che è quella che ho provato con più costanza e della quale quindi so parlarvi in maniera un pochino più accurata delle altre però vi parlerò sicuramente perché sono altrettanto buone e soprattutto due mi sono piaciute moltissimo cosa dirvi l'azienda scusatemi nasce nel 2017 dopo però diversi anni in cui c'è stata tutta una fase di progettazione circa dal 2010 e la mission è quella di avvicinare il consumatore a quella che è la profumeria hand made quindi artigianale facendo cosa imbottigliando le fragranze a mano cercando di utilizzare anche degli ingredienti il più possibile naturali ovviamente non testati su animali e quindi concludere il tutto anche con un confezionamento assolutamente artigianale poi vi farò vedere la scatola all'interno è deliziosa quindi oltre ai profumi poi esiste tutta un'altra linea di prodotti che va dalla skin care alle profumazioni per ambiente delle quali io però non posso parlarvi perché non le conosco assolutamente io tra le fragranze che ho scelto ci sono ho la appunto che è quella di cui vi parlerò oggi vaniglia e mou ho scelto poi narghile e talco e panna devo dire che chi più chi meno mi stanno dando buone soddisfazioni sono però ve lo anticipo già da subito delle fragranze molto molto semplici allora vi mostro la confezione che è questa è un po' difficile da aprire per me ecco qui all'interno poi troviate ovviamente della carta un fogliettino dove viene spiegata un po' l'azienda e la fragranza che avete scelto e poi cosa che secondo me è graziosissima anche un piccolo foglietto scritto a mano dove appunto ci ringraziano per aver scelto la loro azienda e questo lo trovo davvero una carineria molto molto deliziosa tra l'altro le confezioni secondo me sono molto belle e molto utili io le tengo anche perché le utilizzo poi per conservare all'interno comunque le fragranze Olla Olla è una fragranza che ho scelto appunto nel formato da 20 ml è comunque in spray quindi ottimo ma esiste anche nel formato da 50 e 100 ml che sicuramente conviene io ho preferito provare più fragranze piuttosto che magari sceglierne soltanto una e poi scoprire che non faceva per me esiste però la possibilità di acquistare il sample kit dove mi sembra che ce ne siano alcuni già precostruiti altri che si possono scegliere e il costo del sample viene poi scontato sull'acquisto di una fragranza da 50 o 100 ml quindi eventualmente per non sbagliare per non rischiare si può anche acquistare prima il sample kit qui siamo di fronte a una fragranza che ha come note di testa latte come note di cuore latte come note di fondo latte che cosa io mi aspettavo mi aspettavo sicuramente una fragranza come dire molto dolce fortunatamente non è così io ho avuto alcune esperienze di fragranze al latte come per esempio biancolatte che a moltissime persone piace io non riesco a sopportarlo non so per quale motivo ho dovuto proprio cederlo perché non faceva per me invece la è un latte completamente diverso è un profumo che fa di pulito precisamente di pulito panni stesi a sole panni appena lavati è anche molto intenso quindi un profumo che si fa molto sentire è vero c'è una punta lieve 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 di latte quindi di dolcezza però rimane davvero molto poco non è una di quelle note che poi permangono e quasi nauseano se vogliamo come faceva per esempio con me biancolatte in questo caso è proprio molto di sottofondo smorza un po' quella sensazione di pulito proprio intenso è quindi molto molto piacevole io la utilizzo la sto sentendo perché mi piace tantissimo la utilizzo spesso è una fragranza comunque da tutti i giorni perché non si può pensare che sia magari una fragranza da serata io piuttosto la vedo come una fragranza da tenere quando sono a casa quando devo comunque fare delle cose come sia andare al lavoro ma anche fare delle commissioni però non la vedo magari una fragranza da serata piuttosto che impegnativa ecco la vedo una fragranza molto tranquilla molto casalinga molto da tutti i giorni quindi quindi non fatevi magari fuorviare da quelle che sono le note che vengono descritte perché in questo caso ad esempio latte, latte, latte potrebbe essere veramente molto fuorviante invece è una fragranza di pulito bella luminosa anche qui è una fragranza che ti fa sentire bene perché ti dà l'idea proprio di pulizia e di benessere di un qualcosa di assolutamente piacevole quindi detto questo io spero ancora una volta di esservi stata utile farò sicuramente altri video riguardanti questa linea appena testerò per bene le altre fragranze e a presto ciao